Ciao a tutti da CarKit, oggi abbiamo installato il contachilometri digitale su questa BMW F30, la serie 3, disponibili modelli anche per la F10, F15, quindi tutti i modelli della serie F, anche per la BMW X5 o X6, la S70 e S71, praticamente il nostro contachilometri digitale va a recuperare tutte le funzionalità originali della vettura, in più ci dà questo tocco più moderno alla nostra BMW. Qui abbiamo praticamente possibilità di scegliere la modalità della grafica, utilizzando il tasto originale del computer di bordo, che andremo a selezionare, ecco qui, questa è la schermata Sport Plus, poi torniamo, abbiamo molte informazioni, c'è più informazioni dell'originale, adesso vi faccio vedere, oltre all'itinerario, informazioni, vediamo un attimo qui, ecco il service, la data e ora, impostazioni generale, versioni, ritorno, mettiamo un po' in motto, ecco come si può vedere, abbiamo più informazioni rispetto all'originale, integrazione perfetta, non si modifica nulla alla vettura, ha lo schermo antiriflesso, quindi anche se la luce è molto forte da fuori, comunque sia si vede benissimo, c'è anche la funzione dimma, cioè si abbassa con i file accesi, qui abbiamo installato anche il tablet Android, che mantiene anche questo tutte le funzioni originali della vettura, questa è la schermata originale, entriamo in modalità Android, con tutte le funzioni di un tablet Android, tutto viene gestito dal comando originale, oppure dal touchscreen, abbiamo integrato anche la telecamera posteriore, ecco qui, che funziona anche con le linee guida che sterzano, anche qui abbiamo una schermata bella, e che dite ragazzi, secondo me è un bel lavoro, guardate qua, che roba, alla prossima, un saluto da Cracchietta.